E' ufficialmente partita la nuova stagione della scuola basketarezzo, una stagione che con i grandi rinforzi estivi del mercato proietta la società aghiettina verso il vertice del campionato, obiettivo primario del presidente Castelli. Un campionato lo scorso anno anche sfortunato, sfortunato veramente, però quest'anno la società ha messo a disposizione della squadra non soltanto una struttura veramente efficiente al massimo ma ha messo a disposizione anche giocatori, una squadra forte. Sì, quando sono venuto qui l'estate scorsa il messaggio che mi è arrivato dalla dirigenza era quello di voler crescere. Hanno mantenuto quello che mi era solo detto a me, ma forse hanno mantenuto le loro idee, le loro promesse a partire dalla squadra, volendo appunto rinforzare il gruppo che l'anno scorso molto bene aveva fatto. E poi magari per sfortuna o per mancanza di qualcosa da parte nostra non siamo riusciti a raggiungere, ma anche da un punto di vista logistico perché come state vedendo qui i ragazzi hanno la possibilità di svolgere al 100% il lavoro sia fisico che tecnico. Qui dentro abbiamo la possibilità di utilizzare due strutture nuovissime, molto molto buone, un parquet appena ristrutturato, una serie di cose che secondo me non in Toscana, ma in Italia sono poche le realtà sportive sia direttantistiche sia professionistiche che si possono permettere. Poi ecco la ciliegina sulla torta è sicuramente il poter contare intanto su uno staff completo e anche questo non è una cosa così scontata, poter contare su un budget adeguato alla categoria che ci potesse dare una mano nel completare quei piccoli deficit che l'anno scorso si sono evidenziati, soprattutto nella fase offensiva. Per la prima volta forse dalla gestione nostra questa società ha acquistato, diciamo, preso due giocatori importanti. Uno è una scommessa, ovviamente io mi do fidare ai miei collaboratori e ci mancherebbe. Si parla di un giocatore lituano che non è mai venuto in Italia, che gioca nella seconda serie come se fosse la A2 in Italia, in Lituania quindi in questo momento, mentre stiamo registrando, è in strada per arrivare, arriva a mezzanotte questa notte e quindi, insomma, si spera di aver fatto un buon acquisto. In più, io ci mancava questa cosa che secondo me, io che non sono un tecnico, nella mia squadra mancava, e cioè un ragazzo con tanta esperienza, un ragazzo con tanto carattere e ovviamente anche con i punti nelle mani, ricordando che Lorenzo Dolfi è il secondo, o il terzo, o il secondo marcatore della Serie C. Ho pensato che fosse un ragazzo, anche se non è giovanissimo, ma è la persona che mancava a questa squadra, cioè quel giocatore che prende per mano i ragazzi nei momenti delicati, come era la partita di Montevarchi quando siamo entrati, diciamo, in barca, gli dà uno scrollone anche forte nei spogliatoi se c'è la cosa di farlo, l'opportunità di farlo e rientrare in campo ancora più decisivo.